Una parola composta da cinque lettere che può diventare una condanna, una parola con cui qualcuno è costretto a convivere avendo imparato però a non farsi sopraffare. La paura è umana ma lo è anche il coraggio e qui a Terlizzi nel Barese in occasione del festival per la legalità ne ha dato dimostrazione chi mostrando la propria vita vive scortato per le minacce della mafia. La criminalità organizzata è entrata nelle loro esistenze ha provato a sfregiarle, oltraggiarle senza riuscirci perché persone perbene e convinte che affrontare a muso duro quella paura era la soluzione per accettarla. Non si può convivere con la paura senza averne e io ho imparato ad affrontarla la paura, ad attraversarla, ad andare oltre, a tentare di andare oltre. Quindi appunto quando vivi con quelle aggressioni, con quelle minacce, io in questo momento ho 56 processi per minacce di morte, già 36 condannati, quindi capisci che è molto complicato. Però deve sempre emergere il bicchiere mezzo pieno. Io come tanti altri faccio il giornalista e ho deciso di reagire alla paura continuando a raccontare finché ne avrò l'opportunità. La forza apparente di chi imbraccia un'arma e fa fuoco spesso incontra un muro impenetrabile, come è successo a Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, che Cosa Nostra ha provato a zittire senza riuscirci. Bisogna capire cosa significa sotto assedio. Ci si può sentire sotto assedio perché minacciati dalle mafie, perché perseguitati, condannati a morte e allora vivi, come dire, ti senti sotto assedio e ti prende la paura. Poi c'è un altro modo per sentirsi sotto assedio. Capire che la resilienza è un patrimonio che questo paese deve portare avanti senza sé e senza ma. E la resilienza significa che sentirsi sotto assedio significa essere consapevoli che non c'è altra strada che l'esercizio del proprio dovere. Vivere senza abbassare la guardia, seguendo le proprie scelte, le stesse che la criminalità ha provato a rovinare, diventa missione e testimonianza. Questo paese è la migliore normativa antimafia d'Europa e del mondo, ma il miglior testo antimafia del nostro paese è la Costituzione. È il dovere di cittadinanza dal quale nessuno di noi può sentirsi esentato. Ecco, se sentirsi sotto assedio significa comunque esserlo perché fa il proprio dovere, beh, vuol dire che è un assedio piacevole. Io penso che devono essere gli altri a sentirsi sotto assedio perché noi, le persone per bene, siamo più di loro, siamo più dei mafiosi, siamo più dei criminali, siamo più di loro, dobbiamo avere solo la forza e il coraggio di metterci insieme e capire ce la possiamo fare.